eccoci qua matrimonio in un giorno particolare perché stiamo parlando del venerdì è un giorno pieno di sole siamo al meraviglioso podere pendolino siamo diciamo un po all'opera stiamo diciamo allestendo la zona aperitivo di benvenuto che è proprio in questa meraviglia ci saranno le varie postazioni con i formaggi fritti salumi silvia postazione silvia come qua ci saranno un'altra postazione con tutti i banchetti per poi andare a cena la cena nuziale proprio qua fuori nel mezzo al verde eccoci qua altra postazione audio direi che si fa un po d'animazione un po di intrattenimento dove ci si diverte un po ecco dove ceneranno la torta il momento torta sarà proprio sotto questo bellissimo salice piangente una cosa non è bellissimo dove finalizzeremo la serata sarà proprio qua l'interno dove abbiamo allestito tutta la zona ballo tutta la zona ballo che è questa qua che già questa zona qui è grandissima e qua dentro ci sarà open bar e zona postazione ballo quindi stiamo parlando di tre tre postazioni il resto ci sarà una saletta la saletta per i bambini la saletta per i bambini con tutto un bel gonfiabile da gonfiare in pvc quindi di quelli professionali quindi i bambini bravano a divertirsi tutta l'attrezzatura dell'animazione tutta l'attrezzatura per il lavoratore artistico tutti i bambini a mangiare qua dentro insomma un lavorone oggi un lavorone qui potere pendolino potere pendolino siamo proprio nel mezzo di sulle colline di monte san savino è un posto a dir poco meraviglioso vediamo come si chiama Daniela salutiamo gli sposi eccoci qua eccoci qua eccoci qua bellino 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 insomma ce ne saranno delle belle Daniele Parenti Silvia Murici Centro Artistico Toscano musica ed intrattenimento al top oppè nooo no 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 no